Ragazzi, hi, sono pronta, già non ecco me, è mre, è mre, vabbè, ma no, ma parliamo un po' inglese, un po' italiana, what is the problem? E quindi, la miglietta la porta a ragazzi nel caso va a fritto, e niente, ci vediamo a scuola. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, andare a scuola, cioè dopo tre mesi di vacanza, per virgolette ragazzi, perché io sono sempre a studiare, però andando, stavo in vacanza, cioè, un bel trauma. Ok, oggi ho fatto già questa, questa è la terza, un bel avamato qui, un giorno sono una grande, avete riusciti a prendere un posto in fondo, se non male, e già sono stanca, ciao, già sono stanca, se non la voglio dire che mi dice che mi ha possibile. Siamo usciti da scuola ragazzi, questo primo giorno è veramente traumatico, vai commentate anche voi questo primo giorno, commenta chi ha, questo saluta, come è stato questo primo giorno di scuola? Bellissimo, di chi è stato brutto perché non è stato bello, si è fatta male un po' a Giorgia perché ha avuto il piede lì, si è rovesciato, quindi ha avuto una sorta poverina, speriamo si rimetta presto, e niente, adesso prendiamo il pull, ora stiamo in una strada, stavo vogliendo in una strada un po' isolata, in realtà perché nessuno mi vede, in buon vergogno, ma basta quale ci sta la strada, andiamo a prendere il treno, io prendo il pull, ma ne ragazzi, lo accompagno loro, tanto ci passo, va bene ci vediamo, stacca, stacca, sono stacchissima, sono arrivata, sono appena arrivata a casa mi sono sbagliata perché sento troppo, fa un caldo, un caldo, mascaracolato, vedete? va da parecchiare, ora siamo veri sedista, ci vediamo oggi, no, vedete le luci perché mia madre non si sta mai buona un secondo, si sta facendo una luce puzzata, cioè, mi cerco gli occhi soltanto a vedere, ok, mi sposto più dalla porta, ho capito, ok, mi sono puzzata per terra, eh, provano, non ce l'ho a dirti, poi non riesci a entrare su Skype, è ghiaccio del pavimento, sto per terra, sì, e niente ragazzi, c'è stato un po' uno sbalzo temporale, pardon, because I, ho dovuto sistemare the channel, il video oggi non è uscito because non ho avuto tempo, sono stato estetista, ho fatto i baffi, ora non si vede nulla, però l'ho fatti, anche le sopracciglia, sì, le sopracciglia invece si vedono, e, otto, guardate che, che montagna rossa, e, niente, ecco, questo primo giorno di scuola, insomma, è andato, alla fine, che vi ho raccontato questo primo giorno di scuola, bah, che è andato, è finito, domani, domani siamo al secondo, e, aiuto, io, ho paura per questo anno, lo ammetto, però voglio fare un grandissimo impocca al lupo a, tutte coloro, insomma, che quest'anno, che questo, per questo è un anno scolastico, speriamo che vada tutto per il meglio, ovviamente impegniamoci tutte quante, compresa io, ovviamente, e, studiamo costantemente, cosa importante, e, niente, sul canale usciranno tre video a settimana, ragazzi, purtroppo, va così, da ottobre, credo, inizieremo tre volte a settimana, perché per adesso ancora c'ho blog a ritrati, un po' incasinata, però, da ottobre, sicuro, tre volte a settimana, lunedì, mercoledì, e, se poi, se poi, ovviamente, ci dovessero essere problemi, logicamentissimamente, vi avviserò sul mio profilo Instagram, andate a mi seguite, se ancora non mi seguite, e li pubblico aggiornamenti tutti i giorni, stories, eccetera, eccetera, foto e varie cose, e, niente, il vlog finisce qua, mi pare di avervi detto tutto, questa è la nuova dell'art, elegantissima, stupenda, mi piace un sacco, mando un bacione grande, e noi ci vediamo al prossimo video, buonanotte ragazzi, voglio bene! Grazie. Grazie.